Ciao a tutti, oggi vedremo un video sulla tecnica, cioè non è una tecnica, come rifare, riprodurre e lo smalto crack, allora ci serve un codon fioc, uno smalto abbastanza secco, non molto denso, però un pochino secco, una base di qualsiasi colore, io ho scelto questo e pure altri colori. E poi ci serve uno stecchino, eccolo qua, uno stecchino. Allora, prima di tutto andare a mettere la base di un colore. Allora, aspettate un attimo. Ci ho questo colore d'oro. Allora, aspettate un attimo. Una volta messo la base, ho messo questo dorato che non si vede molto bene, però è meraviglioso, ve lo consiglio di comprarlo. Eh, stupendo, proprio bellissimo. Della cristal dovrebbe essere, non lo so, ve lo so. Una volta messo lo smalto, dovete proprio farlo asciugare benissimo. Ora vado a asciugarlo, ti tornerò presto, ciao. Ora, con l'aiuto di un foglietto, andiamo a mettere una goccia di smalto, un pochino secco. Io adesso utilizzerò un bianco, provavo con il bianco. Una volta messo la goccia di smalto, una volta messo la goccia di smalto, la goccia di smalto. Ora, lo andiamo proprio a mettere un bianco. Andiamo a mettere sopra l'unghia. e andiamo a mettere sopra l'unghia, facendo in questo modo. in questo modo, poi. E io, andiamo a mettere sopra l'unghia. E io, andiamo a mettere sopra l'unghia. Naturalmente, si asciugherà molto, ma molto presto. Però dovete farlo asciugare un pochino bene. Bene, non deve essere proprio asciutto, però... Una volta asciugato, andiamo a prendere lo stecchino. Grazie. 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 Questa è il risultato. Grazie.